Sbaglio o qualcuno ha detto anche tu protagonista? Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Weekend in Roulotte. Io sono Stefano e oggi ritornano i video di anche tu protagonista. I protagonisti di oggi sono Massimo e Anna, due giovincelli campeggiatori da molti anni. Ho avuto la fortuna di conoscerli di persona, a settembre sono le del camper e oggi li troviamo con anche tu protagonista dove condivideranno la loro uscita della scorsa estate. Prima però vi racconto un po' di loro. Ormai sono rimasti solo loro due a viaggiare perché ormai la figlia è grande. Sono partiti 25 anni fa girò vagando tra Italia e Europa con la loro tenna canadese e un igloo per poi passare al cannello tenna. Hanno girato sempre Sud Italia e Europa. 18 anni fa l'anno prima Roulotte, una Knauss 400 LK. Poi mi hanno confessato che erano orientati per il camper, pronti quasi per acquistarlo, ma poi alla fine un po' per il prezzo, un po' per la vendibilità interna che comunque la Roulotte è molto più abitabile con le dimensioni di pari dimensioni del camper. Hanno scelto di nuovo per una Roulotte, questa volta una Knauss 420 QD. Adesso vi faccio vedere il loro viaggio che hanno fatto durato circa un mese, Lione, Parigi, Rotterdam, Asterdam, il video me l'hanno mandato loro, ci sono le immagini, c'è tutto il loro percorso fatto e alla fine il riepilogo di tutto il loro viaggio. Quindi che dire, vi lascio al video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.